Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho pensato di farne uno dedicato alla mia agenda e da tantissimo tempo che non porto più questa tipologia di video sul canale e ho letto in diversi commenti che eravate curiosi di vederla e di vedere le varie decorazioni. Quindi, visto che ho terminato di decorare tutto il mese di marzo, non vedo l'ora di mostrartelo, anche perché sinceramente sono molto soddisfatta del risultato e è venuto benissimo, tutto bello, colorato, allegro, vivace. Quindi voglio sapere cosa ne pensi. Se ti piace questa tipologia di video, ti invito già da subito a lasciarmi un bel pollice in su e a dirmi cosa ne pensi giù, nei commenti, perché se appunto vedo che sono apprezzati, potrei farla diventare una rubrica settimanale, tipo ogni domenica, visto che per eccellenza è il giorno del relax, potrei dedicarlo appunto a dei video sull'agenda, bullet journal, diario creativo, quindi aspetto di ricevere il tuo feedback. Adesso direi di cambiare la visuale, così ti mostro tutta la decorazione. Ed eccola qui, in tutto il suo splendore. Devo dire che questa agenda giapponese mi piace davvero tantissimo, soprattutto per i dettagli. Io vi ho già fatto la recensione, se ve la siete persa, la metterò linkata qui nelle schede, così potete recuperarla. Qui ci sono tantissimi stickers che ho messo all'interno. E da qui parte il mese di marzo. Altri stickers usati come segnalibro. Questa griglia mensile mi piace tantissimo. L'ho vista da Valina, lei dà sempre dei consigli e dei suggerimenti, degli spunti molto molto belli per decorare l'agenda. Questo mese il tema era fiori liberi. Io l'ho già fatto tutto, in realtà andava disegnato un fiore al giorno, ma io mi son lasciata prendere la mano. E quindi ecco qui già tutti i fiori del mese di marzo. E mi piace tantissimo. Questa sezione qui momentaneamente è bianca, perché io la scrivo sempre a fine mese. Quindi l'ultimo giorno del mese in corso, io faccio un riepilogo del mese appena trascorso, e scrivo quello che mi ha lasciato questo mese, le cose positive, quelle negative cerco di evitarle, però a volte le scrivo anche. E niente, quindi qui poi a fine mese insomma scriverò cosa ho pensato di marzo, cosa mi ha dato. Questa qui è la prima settimana. Ho usato tantissimi stickers, la maggior parte sono tutti presi da Action. Questi con le faccine sono del Lidl, e poi ce ne sono altri presi da Aliexpress, tipo questi qui, che mi piacciono tantissimo. Washi tape, anche loro presi da Aliexpress, se non mi sbaglio, perché sto cercando di eliminare tutti i washi tape più vecchi, e anche gli stickers che ho da più tempo, quindi da tanti anni. Praticamente prima li compravo sempre da Aliexpress. Questa qui è la seconda settimana, quella in corso, tra l'altro, visto che sto registrando il video oggi, che ne abbiamo 17 domenica. mi piace molto usare le penne colorate, quindi ogni cosa che scrivo mi piace appunto cambiare colore, anche perché così, non lo so, l'indeviduo prima, il risultato poi è più gioioso, colorato, allegro, quindi mi piace tantissimo. Questi stickers che mi strapiazzano, tra l'altro, hanno anche dei glitter, sono un po' olografici, sono di action. Anche questa, la scarpetta, questo qui è uno sticker book preso da action. Tra l'altro, se vi può interessare, se non avete action vicino a voi, sul mio Vinted potete trovare molti stickers e sticker book di action, perché io spesso li compro doppioni e ho deciso di non tenere più le cose doppione, quindi le ho messe in vendita. Il link lo trovate giù nell'infobox e potete anche cercarmi come Crizia Bloom. Quindi questa è la settimana attuale, questa qui invece è la prossima settimana, ovviamente non ho ancora scritto nulla, perché solitamente la compilo il giorno stesso, quindi potete solo vedere come ho decorato con i vari washi tape e gli stickers e mi diverto tantissimo. Io per circa un annetto, più o meno, ho smesso in parte di decorare l'agenda. Scrivevo semplicemente le varie cose senza usare più sticker e washi tape, quindi la scorsa agenda, che è sempre una coconut, però lavanda, è molto triste. Infatti poi ho smesso di fare video e di mostrarvela, perché appunto scrivevo solo e basta. Mi era un po' passata la voglia di decorarla. Fortunatamente mi è ripresa la pena creativa e quindi mi diverto tantissimo, anche perché mi rilasso, mi aiuta contro lo stress, l'ansia. Veramente, se non avete mai provato, fatelo, soprattutto quando vi sentite ansiosi o stressati, a mettervi lì e decorare. Anche un quaderno, non per forza un'agenda, e attaccare i vari sticker, scrivere i vostri pensieri con le penne colorate. Veramente terapeutico. Provare, per credere. Quindi questa qui è l'altra settimana. Washi tape, sempre di AliExpress. Tra l'altro, Vambra mi ha fatto venire una voglia assurda, ciao Vambra, di fare un ordine d'AliExpress e di prendere delle cosine. Quindi, misa tanto che lo farò e presto vedrete un haul AliExpress. Voglio riprovarci, sperando bene questa volta, perché io amavo AliExpress. Stickers, sempre di action, e questi qui, presi appunto su AliExpress, questi coreani, o questi con questa bimbetta, il coniglietto, mi piacciono tantissimo. Le stelline, invece, fanno parte di un set preso a Lidl. Ogni tanto anche il Lidl mette dei bei sticker a 50 centesimi solitamente, dei pacchettini molto cari. Settimana di Pasqua, appunto quest'anno, poi Pasqua viene il 31 marzo, e io andrò a mangiare a casa dei miei zii, quindi poi qui lo scriverò. Ho messo questi washi tape con i pulcini, che sono adorabili, i coniglietti, questo, questo qui, quest'altro, sono sempre sticker presi da action, anche questi grandi. Le stelline, questa farfalla, sono invece del set del Lidl, e che io spero, sinceramente, che rimetta presto, perché voglio altri stickers del Lidl, solitamente sono veramente tanto carini. E niente, quindi, questa qui è la settimana di Pasqua, e una cosa che mi piace molto di questa agenda, che nella precedente Coconaut non c'era, è che c'è a fine di ogni mese l'Ebit Tracker, dove poter segnare, appunto, le varie attività. Quindi, io ho voluto farlo. Vi dico che nei mesi precedenti non l'ho mai fatto, purtroppo, perché per pigrizia, più che altro, mi scordavo di segnarmi le cose, quindi ho fatto altro. Ho fatto delle pagine di scrapbooking, che vi mostrerò in un altro video. Questo mese, invece, di marzo, ho deciso di provare a fare le Bit Tracker. Infatti, mi sono segnata alcune attività, e ho segnato le varie cose. Per ora, lo sto rispettando. Mi ricordo di segnarlo, appunto, ogni giorno, e spero di continuare così fino alla fine di marzo. Vedremo. Questa cosa, tra l'altro, mi invoglia anche a fare le varie attività. Infatti, se ci fate caso, all'inizio non leggevo. Poi mi sono accorta che per molti giorni evitavo di leggere il libro, che tra l'altro lo devo riportare in biblioteca, e questa cosa mi ha spronato a leggere almeno due capitoli ogni giorno. E quindi me lo sono segnata. E questo, quindi, è tutto per questo video. Ci tenevo, appunto, a farvi vedere la mia agenda, perché in molte me lo avevate richiesto, e visto che è marzo, mi piace tantissimo come è decorato, ci tenevo a mostrarvelo. Prossima settimana, vediamo se riesco, vi faccio vedere tutta l'agenda come l'ho decorata. Quindi, dall'inizio, che inizia da agosto 2023, questa qui, arriva fino a dicembre 2024, proprio, è un'agenda bella, grande, grande. Insomma, vi mostrerò come l'ho decorata dall'inizio. perché devo dire che è venuta molto, molto carina e ne sono abbastanza soddisfatta perché è bella, colorata e mi dà proprio gioia. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Fatemi sapere se dal prossimo mese, quindi d'aprile, volete vedere la decorazione dell'agenda settimana per settimana, casomai farò dei video brevi, magari la domenica, e invece di decorarla da sola e farvela vedere già finita, potrei attaccare i vari sticker e washi tape con voi. Fatemi sapere cosa preferite perché il vostro feedback per me è davvero importantissimo, quindi fatemi sapere, quante volte l'ho detto, se volete vederla così come ve l'ho mostrata in questo video, già tutta decorata, sistemata e ve la mostro, insomma, più velocemente, oppure se volete proprio con la musichetta di sottofondo, rilassante, rilassante, più rilassante, ditemi le vostre preferenze. quindi scrivetemi dei commentini che a me fa sempre piacere leggervi, pollice in su se vi è piaciuto questo video, se amate la decorazione dell'agenda, bullet journal, insomma, lasciatemi i vostri feedback. Se non siete iscritte vi ricordo di farlo, io vi mando un immenso bacio e spero di rivedervi in un prossimo video. Ciao!